Arrivata al 2-1 finale, questo è Francesco Pedone sulla panchina della Juventus, Francesco Pedone che lo abbiamo ricordato, a lungo allenatore dei giovanili della Juventus a cominciare da 4 anni fa, lo stesso Pedone, ricordiamolo anche allenatore della Sampdoria giovanile e non solo. Dall'altra parte Marco Alboni, Marco Alboni che a differenza di Pedone per 14 anni ha lavorato esclusivamente nel settore giovanile della Lazio, ricordiamolo dai pulcini agli esordienti, esordienti giovanici fino agli allievi nazionali Under 17, quindi tutte le giovanili in casa bianco-celeste. Stiamo rivedendo intanto gli highlights di questo confronto, un confronto che ci ha detto di uno strapotere da parte della Juventus e questo è il gol del vantaggio con Asa nel corso della prima frazione di gioco su assist il turco da destra, la Juventus già alla metà del secondo tempo dopo questo primo vantaggio con il colpo di testa, in ritardo Bedini e poi Magro qui incolpevole, il portiere della Lazio classe 2005, è arrivato poi il gol di Galante, palla sul sinistro come vedete, 2-0 comodo da parte della Juventus, questo a metà della prima frazione, sembrava chiusa e invece poi nella ripresa, grande carattere della Lazio che riapre la partita, Lazio che giocherà addirittura a lungo in 10 per l'espulsione di Mancini, Mancini autore del gol su rigore che ha dato la possibilità alla Lazio di crederci fino all'ultimo istante. Le premiazioni, le premiazioni ci dicono, quindi miglior portiere è stato Scaglia della Juventus, adesso le donne, miglior giocatore della manifestazione è sempre casa Juventus, questi sono tutti i premi che vengono dati qui, ci sarà anche un altro premio che non riguarderà Lazio e Juventus perché il capo cannoniere della manifestazione è D'Agasso del Pescara, diamo a Cesare quel che è di Cesare, anzi diamo a Matteo D'Agasso quello che è suo, 5 reti nella manifestazione, complimenti anche a D'Agasso e complimenti a Pescara. Pescara che abbiamo detto ha sfiorato la finale perché a un certo punto vinceva 1-0 con la Lazio nella partita poi determinante per sapere chi era la seconda finalista dopo la Juventus che qui ha avuto un percorso netto, solo successo, solo successi per la squadra di Pedone. Intanto stiamo ancora vedendo, intanto ecco ci fa piacere sottolineare che viene premiato anche Troise classe 2005 con il premio Fersini, io ricorderai anche chi era Mirko Fersini, Mirko Fersini era un giocatore della Lazio Primavera che purtroppo, purtroppo un incidente stradale ce l'ha tolto molto presto, aveva solo 16 anni, 17 stava entrando nella squadra primavera e purtroppo un incidente stradale, se non sbaglio a Fiumicino non vorrei sbagliare, ce l'ho apportato via. Quindi il premio Fersini, ricordo che il campo centrale di Formello è proprio dedicato a Mirko Fersini. Al prossimo premio vorrei di raggiungere... Intanto ci sono...